amici dell'aba studenti non studianti sursucorda oggi vi spiego come si fa a diventare papa allora volete voi forse diventare papa volete essere responsabile della fede della salvezza delle anime di un miliardo e passa di abitanti della terra bene dovete avere due requisiti prima di tutto essere cattolico e naturalmente se siete di un'altra religione ciao pep e secondariamente dovete essere un maschio mi dispiace care 50 per cento del mondo care donne ma questo non è un mestiere per voi qui non ci sono pari opportunità allora potrebbe dovreste essere anche un cardinale per la verità in teoria potrebbe essere eletto come papa una persona che non è e non è mai stata un cardinale in realtà è da 600 anni che questo non succede quindi aggiungiamoci anche questo terzo requisito oltre a quello di essere cattolico oltre a quello di essere maschio aggiungiamoci pure tranquillamente quello di essere cardinale benissimo ma come si fa voi mi direte allora a diventare papa nel concreto sento già moltissimi di voi che hanno questo questo desiderio questa passione io direi meglio questa vocazione ebbene non è difficilissimo in primo luogo bisogna essere prete è evidente no cosa si fa si frequenta il seminario dove si studia teologia e tutte la tutta la liturgia l'ordinamento della chiesa il diritto canonico eccetera eccetera quindi prima di tutto avere voglia di studiare e frequentare il seminario se volete essere prete che è il primo passo per diventare papa secondo momento secondo cosa secondo requisito ovviamente di nuovo dovete essere maschi terzo requisito dovete essere celibe cioè non sposati e dovete anche promettere che non vi sposerete mai aspetta che la momento così magari si vede meglio ok quindi se avete desiderio di sposarvi se vi piacciono tanto le ragazze è meglio che vi scordiate di diventare un papa attenzione che però non sarete soli perché i preti cattolici in giro per il mondo sono circa 400 mila e quindi non proprio pochissimi avrete un po' di concorrenza tra virgolette per diventare papa dopo che siete diventato prete e magari avete avuto una parrocchia o aiutate un parroco ma comunque siete nella gerarchia potete potreste aspirare a diventare vescovo attenzione che però qui il numero si restringe perché se i preti sono in tutto il mondo 400 mila i vescovi nel mondo sono solamente 5 mila cosa deve fare un vescovo il vescovo ha un compito molto molto semplice ma nel contempo molto molto difficile controllare episcopos in greco vuol dire proprio vigilante controllare tutti quelli che fanno i preti della sua diocesi l'area che il vescovo controlla più o meno fate conto corrispondente a una provincia ma non ci sono sempre queste sovrapposizioni si chiama diocesi e quindi il vescovo deve controllare tutto quello che fanno i preti della sua diocesi se il prete va tutte le sere a ballare in discoteca e torna a caso ubriaco e i fedeli se ne lamentano il vescovo giustamente gli tira le orecchie e o gli dà altre punizioni tipo quelle che vi do io in classe naturalmente se per il prete il riferimento è la chiesa della parrocchia per il vescovo il riferimento è la cattedrale attenzione che dopo i 75 anni il vescovo va in pensione e prima di andare in pensione però fa una lista di possibili preti della sua diocesi di preti che potrebbero diventare vescovi una volta che lui si è ritirato questa lista con i nomi dei preti che devono avere compiuto 35 anni devono essere preti da 5 anni devono avere una laurea in teologia o qualcosa di equivalente viene passata a un personaggio molto importante inviato dal papa quando c'è la sostituzione del vescovo questo personaggio si chiama il nunzio apostolico il quale legge la lista che ha stilato il vescovo che appena andato in pensione vede i primi tre candidati i primi tre preti candidati e gli esamina uno per uno fa dei veri e propri delle vere e proprie ricerche su di loro infine cosa fa manda segnala il nome che lui ha selezionato come successore del vescovo x che è andato in pensione manda tutto alla congrega dei vescovi manda tutto all'assemblea vescovile a roma la quale può approvare la scelta del nunzio oppure respingerla se la respinge deve ripartire tutto da capo insomma sono bei problemi ma l'ultima parola aspetta al papa se il papa non è d'accordo che il nuovo vescovo di milano sia il signor peppino ecco che allora il nunzio apostolico dovrà ricominciare tutti i suoi test tutte i suoi esami tutte le sue verifiche da capo quindi ci possono volere mesi e anni ma se una volta che siete prete diventate vescovo il prossimo step per diventare papa dovrebbe essere diventare cardinale attenzione i cardinali sono dei vescovi non sono capi degli altri vescovi cioè sono dei vescovi con speciali incarichi ecco perché si chiamano i principi della chiesa il loro incarico più importante naturalmente è quello di eleggere il papa quando muore un collecchio allora solo il papa può nominare dei cardinali attenzione che i cardinali sono solo 200 in tutto il mondo quindi 400.000 preti 5000 vescovi 200 cardinali quando un papa muore tutti i 200 cardinali al mondo vengono convocati a roma vengono chiusi nel conclave e su un fogliettino devono indicare ciascuno il nome del cardinale che secondo ciascuno deve diventare papa però attenzione che bisogna raggiungere la maggioranza dei due terzi dei cardinali per diventare papa cioè due terzi dei cardinali devono votare il tuo nome se vuoi diventare papa che succede questi fogliettini su cui è scritto io voglio papa il vescovo il cardinale x voglio papa il cardinale y eccetera eccetera vengono contati e poi bruciati in un camino allora in genere succede così ci sono due settimane di voto votano quattro volte al giorno per sei giorni alla settimana perché nel settimo giorno invece lo passano in preghiera alla fine dopo qualche tempo ci si augura di vedersi sollevare dal comignolo che si vede benissimo da piazza san pietro la cosiddetta fumata bianca cioè i voti che erano necessari per il nuovo papa finalmente sono stati raggiunti e quindi si vede chiaramente distintamente la fumata bianca mentre viene messa la fumata nera se i due terzi ancora non sono stati raggiunti a questo punto se siete il nuovo papa dovete scegliervi un nome un nuovo nome potenzialmente potete scegliere il nome che volete a sdrub eccetera ma di solito si sceglie il nome del papa che vi ha preceduto aggiungendovi il numerino l'attuale invece si è scelto un nome che nessuno aveva mai usato francesco quindi questo sarà francesco prima infine quando sarete eletto il papa vi affacerete dal balcone il cardinale più anziano vi presenterà nunzio vobis magnum gaudium abemus papam cardinalem tal dei tali qui si vimposuit nomen e vi dirà dirà a tutta la folla cattolica plaudente che attende questa notizia e in tutto il mondo dirà il vostro nuovo nome quindi professione spiegata professione assicurata se volete diventare papi ora sapete come si fa see you later alligator in a while crocodile bye ciao